Le più importanti esperienze del teatro di ricerca italiano sono racchiuse in questo cartellone che si presenta alla sua dodicesima edizione con 25 appuntamenti sparsi nei teatri di Fano, Pesaro, Urbino, San Costanzo e Urbania e che parla i linguaggi più innovativi della scena teatrale nazionale. Un teatro di ricerca trapassato, presente e futuro di un territorio che ha voglia di condividerlo con gli spettatori. L'idea di condividere con gli spettatori questo territorio è il motivo che ci spinge a fare e a mantenere questa manifestazione. 12 anni sono tanti per una manifestazione in qualche modo a vocazione minoritaria per dirla con Fredo Fofi ma siamo molto contenti, significa che c'è bisogno appunto di un momento che accanto alle altre occasioni di spettacolo, di musica e di danza ci dia appunto questa possibilità. L'apertura del cartellone che va da febbraio a maggio è affidata al Teatro della Fortuna dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione che aggiunge così al suo programma stagionale anche questa proposta arricchendo ulteriormente il ventaglio dell'offerta ai suoi spettatori. Si aggiunge alla stagione di prosa, si aggiunge alle operazioni della lirica, abbiamo come sapete già fatto Madame Albate, siamo addirittura ad arrivo per presentare il Barbieri di Siviglia, ma questa della stagione di prosa è un cartellone che ha trovato consenso, nei cittadini sono aumentati come sapete gli abbonamenti e aggiungere questi tre spettacoli è veramente importante perché anche se è solo per un giorno per spettacolo, perché adesso li abbiamo obiettivi bene a tre serate, però ci fa capire che poter stare in squadra significa avere qualità e sicuramente è un pezzo contenuto, un costo contenuto. L'11 febbraio sul Sipario quindi al Teatro della Fortuna con la straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano con Viaggio al Termine della Notte, con le atmosfere musicali di Teo Teardo alla chitarra e Martina Bertoni al violoncello.